Barreto in velocità, Barreto supera a Martinez, si ferma, limite in aria è Barreto, il numero è Barreto, il trinario è Barreto, calcio di rigore! Barreto contro Sereni, parte Barreto, 2-1 a Bari! Devo dire che il rigore è perfetto insomma, Sereni da una parte e palla dall'altra, quindi bello rasotero convinto, quindi nulla poteva Sereni questo caso.